Capita frequentemente che in montagna ci si possa far male non solo durante le battute di caccia, ma i colleghi amici dell'ATC comunque sia ci hanno favorito dandoci una grossa mano per cercare di essere sempre più vicini all'utente anche in posti impervi o scarsamente antropizzati. Più sicurezza tra i boschi e le montagne retine per chi va a caccia, ma non solo. Il progetto Primo Soccorso Negli Incidenti di Caccia nasce dalla volontà di dare una risposta immediata ad eventuali malori o incidenti durante le battute di caccia al cinghiale. L'ASL assieme ai professionisti del 118 ha così costruito un percorso di formazione assieme alle due associazioni territoriali di caccia presenti nel retino. Siamo riusciti a ingaggiare due cacciatori per ogni squadra di caccia al cinghiale della provincia di Arezzo, siamo riusciti a formare sia per la reanimazione cardiopolmonare di base sia per quanto riguarda lo stop dei bleed che è una campagna mondiale per lo stop ai sanguinamenti. Manovre fondamentali che speriamo che tutta la popolazione un giorno sia formata a questo, soprattutto la reanimazione e il blocco delle emorragie perché sappiamo quanto è importante. 73 le squadre di caccia al cinghiale in provincia di Arezzo per un totale di 2650 cacciatori. Sono luoghi che sono frequentati soprattutto da noi cacciatori, però in questo momento sono integrati da gente che fa trekking, cercatori di funghi. Speriamo di non utilizzare mai questa iniziativa che abbiamo collaborato, però succede, può succedere, certo. È un bene per tutta la cittadinanza, non è una cosa esclusivamente che riguarda noi cacciatori. Alle squadre è stato infine chiesto di individuare punti strategici per poter effettuare il rendezvous con i mezzi di terra e con il servizio di soccorso nel momento di un'emergenza. Il collega che si trova in postazione nel momento in cui riceve la richiesta di soccorso può distinguere quali sono i punti dove va a atterrare l'elicottero e dove non può atterrare, oppure i punti dove si può accedere con le ambulanze e con i mezzi 4x4 e dove i puntini rossi dove non ci si può arrivare con mezzo di terra. Ogni punto è geolocalizzato con il nominativo sia del luogo sia della squadra di caccia che ha censito il posto.